Grazie a tutti. Il caso vede una coppia di genitori di una bambina di 6 anni, cittadina italiana, nata e residente in Francia, con il nome di Andrè ed avente un doppio cognome, a dire l'autorità giudiziaria italiana allo scopo di vedere riconosciuto il diritto della minore di continuare a utilizzare detto doppio cognome nonché il nome Andrea, sebbene solitamente utilizzato nel nostro paese per identificare soggetti di sesso maschile. L'utilizzo dell'onomastico Andrea ai soggetti di sesso femminile è piuttosto frequente, non solo all'estero ma anche in Italia, pertanto deve sottolinearsi il trauma che potrebbe causare alla minorenne mediante il cambiamento del nome segno distintivo della sua persona. I genitori non hanno un diritto potestativo all'attribuzione al minore del nome che desiderano. Il diritto al nome, infatti, è un diritto soggettivo incomprimibile della persona che lo porta, la quale, tuttavia, al momento della nascita non è in grado di sceglierlo, ed allora sono i suoi rappresentanti legali ad indicarlo.